Una settimana di sport e allegria sotto il nome di Matteo Valenti. Ha preso il via al Beach Stadium in Darsena a Viareggio l'undicesima edizione del torneo di beach soccer in ricordo del giovane scomparsio nel 2004 per le gravi ustioni riportate sul luogo di lavoro. Nacque tutto nell'estate 2005 al bagno Caterina, gli amici di Matteo che si dividono in due squadre e giocano per ricordarlo. Oggi è un torneo che viene invidiato da tutta Italia con 48 squadre provenienti da tutta la Toscana e circa 500 atleti partecipanti. Il ricordo di Matteo è stato intitolato al Beach Stadium. È nata una squadra, il via Reggio Beach Soccer, che tra le protagoniste del campionato ha vinto la Coppa Italia a 5 giocatori in nazionale, argento a Baku, ora ai mondiali in Portogallo. Una Beach Academy con 150 bambini e ragazzi allenati dai giocatori via Reggio. A 5 giocatori in nazionale, argento a Baku, ora ai mondiali e ragazzi allenati dai giocatori via Reggio. A 5 giocatori in nazionale, argento a Baku, ora ai mondiali e ragazzi allenati dai giocatori via Reggio. A 5 giocatori in nazionale, argento a Baku, ora ai mondiali e ragazzi allenati dai giocatori via Reggio. A 5 giocatori in nazionale, argento a Baku, ora ai mondiali e ragazzi allenati dai giocatori via Reggio. A 5 giocatori in nazionale, argento a Baku, ora ai mondiali e ragazzi allenati dai giocatori via Reggio. A 5 giocatori in nazionale, argento a Baku, ora ai mondiali e ragazzi allenati dai giocatori via Reggio. A 5 giocatori in nazionale, argento a Baku, ora ai mondiali e ragazzi allenati dai giocatori via Reggio. A 5 giocatori in nazionale, argento a Baku, ora ai mondiali e ragazzi allenati dai giocatori via Reggio. A 5 giocatori in nazionale, argento a Baku, ora ai mondiali e ragazzi allenati dai giocatori via Reggio. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti